I tanti problemi del commercio a Milano, c'è qualche possibile soluzione? Beh certo, ci devono essere soluzioni, deve essere un'amministrazione non ostile al commercio e ai commercianti. Il commercio è una rete straordinaria di imprese, piccole, ma possono essere anche molto grandi, che però rendono viva la città, la illuminano, danno occupazione, danno crescita, sviluppo. Non dobbiamo vessare i commercianti, ma devono essere sostenuti. I commercianti che vogliono fare iniziative di via per promuovere la loro strada, oggi vengono vessati con tasse e burocrazia. Dovremmo invece sostenere questo tipo di iniziative, ma perché è sbagliato il modello economico. Noi pensiamo che il gettito fiscale al Comune di Milano deve venire dalla crescita del PIL, non dallo strozzare le attività economiche.